Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Liverpool 2 Chelsea 2 si andrà ai calci di rigore parte live reaction con il primo penalty di Bobby Firmino Firmino contro Kepa, gol di Firmino e quindi la Liverpool si porta in vantaggio in questi penalty che daranno la vincitrice della Supercoppa Europea 2019 una bellissima partita, un primo tempo dominato dai Blues con il vantaggio di Oliver Giroud un secondo tempo invece architettato a suon di occasioni per i Rez con il pareggio di Mané e poi supplementari bellissimi vantaggio per quanto riguarda i Rez con la doppita di Mané e pareggio immediato di Giorgino su calci di rigore secondo penalty, primo per quanto riguarda il Chelsea con Giorgino vediamo se questa volta avrà la meglio il portiere spagnolo Adrian oppure il centrocampista italiano ancora una volta, pallone da una parte, portiere dall'altra, 1-1 tra Liverpool e Chelsea in questi calci di rigore Giorgino comunque batte i rigori benissimo pallone da una parte, portiere dall'altra per due volte nella stessa partita bravissimo, ancora una volta con il suo movimento che viene stoppato da una finta e proprio in quell'occasione il portiere si butta dalla parte sbagliata e Giorgino lo beffa secondo rigore, terzo complessivo, va Fabinho, un altro specialista mi verrebbe da dire perché lui li batteva nei tempi della Monaco, vediamo e invece in questa occasione il rigore è pesantissimo perché vale la Supercoppa Europea a parte Fabinho, che rigore ragazzi, ancora una volta perfetto Keppa rimane immobile e Fabinho riporta in avvantaggio i Reds 2-1 in questa finale di Istanbul dopo ne parleremo però, veramente una bellissima partita ce lo aspettavamo, derby inglese dalle mille emozioni un primo tempo dominato dai Blues secondo tempo invece ci sono state tante occasioni per i Reds ma anche una bella reazione per quanto riguarda la squadra di Frank Lampard e adesso quarto rigore, il secondo per il Chelsea va Barclay Lex Everton, tanta tanta pressione per l'ex centrocapista offensivo dei Toffis vediamo adesso il secondo calcio di rigore per quanto riguarda i Blues gran rigore, 2-2, questa volta Adrian aveva intuito ma era un rigore perfetto, proprio nell'angolino giusto, 2-2 quindi ancora una volta perfetta parità in questo derby inglese secondo il mio punto di vista i Blues hanno giocato meglio l'episodio del calcio di rigore mi piacerebbe rivederlo ancora una volta però comunque era un episodio abbastanza difficile da decretare Stefani non ha avuto dubbia, ha decretato subito il calcio di rigore va Divock Origi, quindi terzo rigore, il quinto in questa finale di Supercoppa Divock Origi, intanto nella ripresa al posto del bomber Manet vediamo Origi, grande pressione sull'attaccante belga perché questo può essere un rigore decisivo c'è il gol di Origi, ma Kepp aveva toccato non è riuscito a togliere il pallone dalla porta 3-2 Rez ragazzi che rigore, tirato abbastanza male mi verrebbe da dire perché Kepp c'era arrivato ma alla fine è gol, è passato sotto le braccia peccato, peccato c'era arrivato Kepp Origi festeggia 3-2 Liverpool e adesso dagli 11 metri, se non sbaglio ci va Mount ci va Mount, l'ex Derby County vediamo, tanta pressione per questo ragazzo classe 99 che rigore, che rigore sotto il 7 aveva ancora una volta intuito Adrian, ma questa volta siamo 3-3 rigore perfetto, tutti i rigori perfetti tranne quello di Origi che poteva comunque tirarlo molto meglio 3-3, quindi mancano ancora 4-2 per parte e c'è tanta pressione in questa finale veramente che speriamo non finisca mai veramente una bellissima partita adesso vediamo se non sbaglio è Alexander-Arnold che va a tirare questo quarto rigore per quanto riguarda il Liverpool ancora perfetta parità 5-5 totale 3-3 in questi calci di rigore Alexander-Arnold confermato quindi questo quarto rigore vediamo perché comunque è importantissimo adesso questi ultimi quattro rigori decideranno la Supercoppa Europea parte Alexander-Arnold rigore importantissimo ma ragazzi li stanno battendo benissimo 4-3 Liverpool perfetto anche questo Kepa ci stava per arrivare ma è un rigore veramente raso terra che prende il palo bacia il palo anzi palata di Kepa che però non riesce a togliere ancora una volta la porta Kepa sta facendo una serie di rigori sta facendo veramente una prestazione clamorosa ha anche fatto una doppia palata su Sarai e Van Dijk nel corso del secondo tempo fenomenale quindi comunque ha salvato il Chelsea in questa finale Adrian si è trovato in una settimana ad essere la riserva del West Ham a titolare in una finale così importante adesso va Emerson Palmieri un'altra conoscenza romana un'altra conoscenza italiana Emerson Palmieri rigore perfetto e Adrian si getta dalla parte di destra il rigore è centrale 4-4 e adesso ragazzi se non erro secondo me adesso arriverà il momento di Momo Salah che pressione che pressione sarà per l'egiziano perché questo è un rigore veramente difficile da calciare non sbaglio non sbaglio Momo Salah prende il pallone lo sta per posizionare e ragazzi quinto calcio di rigore secondo me lo sbaglia ho questo presentimento secondo me lo sbaglia è un rigore veramente importante dopo toccherà al Chelsea replicare quindi Liverpool ha un piccolo vantaggio però io ho questa sensazione che Momo Salah sbaglia classica rincorsa non sbaglia non sbaglia Momo Salah 5 rigori 5 gol per Liverpool e adesso ragazzi tutta la pressione di questo mondo è sui piedi del Chelsea e forse anche sulla parata la pressione è sul Chelsea però la grande Ivan Munga è responsabilità anche per Adrian che può regalare la quarta Supercoppa Europea a Liverpool con una parata e ragazzi dagli 11 metri dopo un altro giovanissimo Mount arriva Abram arriva Abram ragazzi il Lampard ha fatto tirare i rigori a Mount e Abram i due più giovanissimi della squadra che vanno già a tirare i rigori che classe questo allenatore che classe si presenta Abram vediamo rigore decisivo se segna si va avanti si va ad altranza se sbaglia la Supercoppa è del Liverpool parata di Adrian di Adrian ragazzi incredibile il Liverpool ha vinto la Supercoppa Europea 5 a 4 le calci di rigore festeggia Klopp che dopo la Champions League dopo aver perso la Comune di Shield ai calci di rigore vince la Supercoppa Europea ai calci di rigore giusto così mi verrebbe da dire invece peccato per questo Chelsea che dopo aver perso 4 a 0 l'esordio in campionato contro il Manchester United domenica però immediatamente rispetto a quello che aveva fatto vedere in campo perde questa finale di Supercoppa ai calci di rigore una bella prestazione nel primo tempo parliamo un po' della parità il Liverpool ha vinto però veramente i Blues hanno giocato molto molto bene mi verrebbe da dire grande occasione anche per Abram nella ripresa ha scurato il gol che avrebbe dato al Chelsea il nuovo andaggio per 3 a 2 peccato peccato perché nel primo tempo non c'è stata assolutamente parte i Blues hanno dominato con Pulicic che aveva assenato anche il gol del 2 a 0 annullato per fuorigioco anche con l'ausilio del VAR un gol annullato a Mount nel secondo supplementare se non erro quindi comunque due gol annullati al Chelsea più di due però per fuorigioco che c'erano anche con l'ausilio del VAR peccato peccato per il Chelsea non meritava assolutamente questa sconfitta la squadra di Lampard per quello che si era visto comunque rigore di Abram tirato abbastanza male secondo me la pressione sulla classe 97 ex Aston Villa si è fatta sentire tranquillamente però sono cose che possono capitare a questi giocatori giovanissimi però i complimenti vanno fatti a Lampard che li ha fatti giocare sia contro il Manchester United domenica all'esordio da titolari e poi oggi li ha fatti subentrare in una partita così importante come una finale di Supercoppa europea complimenti a Lampard che sta comunque gestendo benissimo questo nuovo ciclo per il Chelsea che oggi veramente ha giocato benissimo però una squadra esperta una squadra di fenomeni come i Reds è giusto che dopo aver perso la Comune di Shielda i calci di rigore per mano del City la bestia nea della Liverpool in questi anni è giusto che oggi alzino a Istanbul la quarta Supercoppa europea della storia dopo il 1977 il 2001 il 2005 dopo la finale vinta tra i vigori contro il Milan a Istanbul proprio la finale vinta di Supercoppa contro il CSKA di Mosca dopo i tempi supplementari ecco questo quarto trionfo che ha del clamoroso perché dopo la Champions anche la Supercoppa europea la squadra più forte rimane la squadra di Jurgen Klopp io vi ringrazio per l'attenzione lasciate tantissimi like al video iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao